Massimo Bitonci, come commenta la riforma del Senato uscita dal Consiglio dei Ministri? Una riforma ridicola che non serve a nulla, che non cancella assolutamente il Senato, gli cambia il nome. Noi continuiamo a dire che siamo disposti a votare una vera riforma del Senato, come quella che avevamo predisposto ancora nel 2005. C'è una riforma del Senato federale, una riforma dove i senatori vengono ancora eletti, dove sia cancellato il bicameralismo perfetto, che ci sia solamente la fiducia alla Camera, però che il Senato federale abbia, i propri senatori abbia, come in tutto il mondo, delle funzioni di gestione, di approvazione di normative che riguardano gli enti locali e le regioni. Questa è la funzione che deve avere il Senato. Questa ipotesi messa in piedi da Renzi è un'ipotesi che fa sorridere. Un sindaco di una grande città deve passare il tempo a fare il sindaco della propria città. Non certamente venire un paio di giorni, due o tre giorni qui a Roma per fare il legislatore. È una cosa che non sta assolutamente in piedi. Non la voteremo, a meno che non ci siano le modifiche opportune che noi presenteremo in Commissione Affari Costituzionali e che voteremo. Vedremo alla fine se passerà una riforma vera del Senato, come noi abbiamo sempre auspicato, oppure questa pagliacciata del governo Renzi. Grazie. Grazie.